La vacanza in camper è in plein air, conviene ancora? È davvero economica? Mi sembra il video di Arcadia Lo faccio uguale a lui, lo scopiasso e lo faccio uguale, così siamo a posto Allora, il camper è da ricchi, come dice giustamente lui, è da ricchi il camper Allora, gasolio siamo a 8 con un litro, campeggi ho visto prezzi folli Loro hanno delle vere motivazioni, hanno anche delle valide motivazioni Perché dicono c'è inflazione, l'energia elettrica, ormai in Italia non puoi più fare nulla Quindi hanno ragione ad alzare i prezzi, per carità Ci hanno dei cartago da 80.000 euro, lascio andare i cartago 80.000 euro Buon viaggio, fa bene, i camper costano 50, 60, 40 Chi se ne frega se una famiglia con due bambini paga 80 euro di campeggio Ma ne paga 120, 130, non è il problema dei gestori Loro fanno benissimo alzare i prezzi, fanno benissimo Fanno benissimo, ormai il camper costa come un appartamento Se vai a Parma, meno di 60, 70, 80, avete visto i video di sbraglianda Costano così 80, sì sbraglianda, adesso facciamo crescere i cappelli Hai capito? Costano così i camper, costano delle fortune, come degli appartamenti Poi io dico, se sono 90, 100.000 euro, a me piace Fanno Mi piace Senigallia, mi piace Marotta, mi piacciono le marche, no? Se capito, vado sempre lì Allora dico, mi conviene comprare un appartamento Se vinco al vinci casa o un camper che c'è una svalutazione? Fate voi! Quindi uno compra il camper e ci rimette di svalutazione Perché la casa, con tutto il rispetto, non mi si svaluta La tengo lì, ci pago l'IMU, anche se la tengo vuota Tanto affittare una casa è da stupidi, tanto non ti pagano l'affitto Cosa succede? Tu la tieni vuota, sì, se vengono d'estate Io conosco quelli che affittano le case d'estate Gli le sfacciano, i ragazzini e via dicendo Ti costa più pagare per il mantenimento della casa Che ti conviene tenere la vuota Conviene molto di più, poi per quello che rende non ti rende nulla Allora fai un investimento speculativo borsistico, no? Tira fuori le balle, tira fuori le balle Allora cosa succede? È così Quindi alla fine vanno con questi carrozzoni ipercostosi Cosa pretende? Cioè, è come se io vado ad un ristorante di lusso Da Cracco al Cinque Stelle e dico No, non voglio pagare Pago come il McDonald's, 10 euro No! È così! Ho fatto The Family Roulotte, sono andati in Sardegna Hanno speso 130 euro 130 euro in quattro Due bambini, due adulti 130 euro in quattro E sono andati bene Lui ha detto che ho speso poco, figurati E sono andati in Sardegna